CGL, Cisle e Will ancora una volta insieme per cercare di superare le nuove sfide che il mondo del lavoro propone. I tre sindacati si sono riuniti all'hotel Leone di Messapia per dialogare su come dar vita ad una nuova stagione del lavoro e dei diritti. I temi caldi sono stati precarietà, povertà ed emigrazione, ma anche la gestione del PNRR, nella speranza che non diventi un'occasione sprecata. L'appuntamento è stato quello conclusivo che anticipa la manifestazione nazionale del 20 maggio a Napoli e che vedrà una nutrita partecipazione da parte di lavoratori, pensionati e cittadini salentini. L'evento è stato anche l'occasione per fare un focus sui problemi del territorio e per presentare la piattaforma unitaria di proposte che è alla base della mobilitazione nazionale. Noi abbiamo presentato questa importante piattaforma unitaria per rivendicare alcune questioni di metodo e di merito. Intanto si può tenere se il governo riapre ad un dialogo costruttivo, metodico, sistematico e non con semplici informative alla vigilia di importanti decreti, come avvenuto per il decreto lavoro. Ricostruire una nuova stagione è possibile, è possibile rilanciando il lavoro. Tante le proposte con cui i sindacati chiedono al governo una inversione di marcia per quanto riguarda le politiche industriali, economiche e sociali. Le priorità per il Paese, partendo dai salari bassi, da un'inflazione galoppante, partendo dal fatto che la pasta costa 2 euro e che i rinnovi contrattuali tardano ad arrivare, partendo anche dal fatto che la sanità pubblica deve rispondere alle esigenze del cittadino così come previsto nella Costituzione. Il governo ha l'obbligo di ascoltare le forze sociali del Paese più rappresentative, CGL, CISL e UIL, perché ha bisogno di capire qual è la situazione del Paese reale. Bisogna dare risposte concrete a pensionati e a cittadini. Un elemento importante oggi è il fatto che siamo qui e siamo qui tutti e tre insieme. Saremo tutti e tre insieme, soprattutto il 20 maggio a Napoli. La tematica principale è la dignità del lavoro, che si estrinseca attraverso una retribuzione equa, un lavoro stabile e soprattutto una sicurezza quando si svolge l'attività lavorativa. Noi abbiamo necessità di portare al centro dell'agenda politica questo tema in maniera forte, perché riteniamo che questi siano i problemi reali del Paese. Fa ripartire il Sud.